Alla fine trionfa Riad come previsto, ma la partita non è mai neppure cominciata. 119 voti ai sauditi su 165 delegati votanti, 29 alla guerrita Busan e soltanto 17 a Roma, che ancora lasciava trapelare la speranza di prenderne fino a 50 per arrivare al ballottaggio. Una debacle totale e inattesa nelle proporzioni. Deve essere successo qualcosa, dice amareggiato l'ambasciatore Giampiero Massolo dopo il voto. È lui, presidente del comitato promotore, che ha lavorato due anni per la candidatura di Roma, l'unico ad alzare i toni nel dopo votazione. Non critico, non accuso, non ho prove, ma la deriva mercantile riguarda i governi e talvolta riguarda anche gli individui. Parole di fuoco, quelle di Massolo, che provano a spiegare una sconfitta a 360 gradi della capitale e di un progetto di riqualificazione di un quadrante della città che era di alto profilo. Un tracollo che va oltre le cifre ufficiali di 190 milioni di euro spesi da Riad per la campagna di promozione, 160 da Busan e appena 30 da Roma. Era un bellissimo progetto, ma la vittoria di Riad è stata schiacciante, ha ammesso il sindaco Gualtieri. Purtroppo si era ammaricato. Non si vince con il premio della critica del pubblico, ma con il voto degli ambasciatori. Il ministro Abodi guarda avanti. Non penso che l'universalità di Roma passi necessariamente per l'esposizione universale. Per la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, Roma deve crescere, deve misurarsi di più sul futuro, l'innovazione, le nuove tecnologie, la ricerca. Dobbiamo recuperare un'immagine vincente.